Buongiorno, cari studenti, cari amici e cari colleghi, vorrei in qualche modo cercare di contraccambiare questa manifestazione di grande affetto che mi state regalando e lo farò appunto parlando del maestro Michelucci, introdotto benissimo da chi mi ha preceduto, avete già capito che siamo di fronte a una rarissima qualità e l'esigenza di etica, di alto profilo etico e quindi culturale, la cultura dipende dall'etica, dalla morale, senza compromessi, non credo che non abbia mai voluto Michelucci accettare compromessi, quel rapporto che è stato letto in una frase sua, umano e intellettuale, e questa parola non si fa niente da soli, soprattutto nella vita di oggi, ma la collaborazione e condivisione di problemi e naturalmente di obiettivi e poi di risultati. Collaborazione con la parola che ha sempre detto per arrivare a un obiettivo, concordanza di interessi, di interessi da artefice ad artefice, da testimone a operatore, operaio. Qui, diciamo, non a caso in quella lettera che ha citato Andrea, fondamentale, in cui lascia la facoltà, cita Stravinsky. Stravinsky che era, diciamo, un grande artista intriso di modernità ma con gli occhi nella tradizione, addirittura si parla della restaurazione artistica con lui, quindi un rapporto che è sempre in tessuto molto forte con la storia, Michelucci e con la natura, come vedremo. Allora, per prima cosa io vorrei darvi una ragione del titolo. Il maestro è nell'anima. Questo è il bellissimo titolo di una canzone di Paolo Conte che circolava proprio alla fine, quella fine dell'anno 1990, nel quale ci preparavamo a celebrare l'attività e l'esempio di rinnovamento continuo di un ingegnere architetto come progettista. E mi ricordo che questo è il titolo che Detti ha una breve ricordo di Michelucci che comparve il 28-29 di dicembre del 90 sulla Nazione di Firenze, in cui si annunciava questa festa, insomma, della cultura che avremmo fatto con lui il 2 gennaio, data della sua nascita. E mi ricordo che improvvisamente, e questo fu l'ultimo regalo che ho avuto, diciamo un altro regalo, ma non l'ultimo perché continua ancora, continuiamo a ricevere testimonianze che ci invitano al progetto, a rinnovarci continuamente, insomma, il progetto. Mi arrivò una telefonata, mi telefonò che aveva letto e naturalmente si congratulava e mi disse allora ci vediamo per spengere queste fatidiche cento candeline. In realtà andò diversamente perché io mi ricordo il primo di gennaio da Milano, come tanti altri, arrivai a Firenze per incontrarlo nella sua pistoia, nella sua chiesa, e ci arrivò la notizia la sera prima che aveva chiuso i conti con la storia, quasi con quell'estremo riservo che lo portava sempre a diffidare di tutte le cerimonie come questa, che insomma chiaramente emozionano, come voi capite benissimo, però che sono necessarie per far capire come il rapporto umano è la cosa fondamentale, soprattutto nell'epoca della virtualità a cui ci stiamo necessariamente abituando. Ecco, quindi ho un ricordo indelebile di questo titolo perché, diciamo, Michelucci ha sempre creduto in questa necessità di lasciare una compagnia, diciamo, o un gruppo di pensiero quando si stava anchilosando accademicamente in un cortocircuito, potrei dire, accademico. Ecco, così spiego anche, emerge molto bene da questo appunto di lettera, chiesto passaggio in ingegneria, varie ragioni. Prima annoiato, linguaggio letterario astratto diffuso nella facoltà, non riferito alla realtà della costruzione. Un muro che si contorce sotto la luce. Ma è un'osservazione da un muratore, da un muratore appassionato alla vitalità, alla mobilità, direi quasi, della materia sotto le sue mani. Questo era, ed è stato ricordato così, un artista. Ecco, e lascio una facoltà nella quale era preside e con questo inno libertario, insomma, alla ricerca sempre aperta del progetto. Il progetto è un'opera aperta, la città è un'opera aperta, un'opera d'arte aperta a chi la vive, eccetera. Quindi questa felicità dell'architetto è, in qualche modo, ancora oggi di un'attualità fondamentale per tutte le forme di ritirata che noi abbiamo per paura di un incerto futuro. Ecco, allora cercherò di ripercorrere il suo cammino bolognese, però non potendo dimenticare quanto importante fu per questa facoltà, non ancora nata, l'opera di una persona che aveva esattamente 30 anni più di Michelucci, nato nel 1861 a Bologna, che è Attilio Muggia. Attilio Muggia è, diciamo, è l'artefice fondamentale della scuola. Ha costruito questa scuola, questa scuola di ingegneria bolognese. E l'ha costruita da giovanissimo, ci ha passato tutta la vita dentro. C'è stato, se non mi sbaglio, 43 anni all'interno, seguendo nell'evoluzione ed insegnando tutte le discipline dell'architettura tecnica, ma soprattutto, cosa singolarissima per un ingegnere, la storia dell'architettura. Perché è la storia dell'architettura che è, come dicono, la magistra, vite. Ecco, Muggia, qui vediamo una bellissima foto, in cui c'è anche lui, non so se si può ingrandire o no, ma in fondo, in quell'angolino, c'è il giovane ingegnere Muggia, che è morto nel 1936, quindi ha seguito tutto un percorso interno a questa facoltà. Libero docente nel 1891, a 30 anni, e, diciamo, professore di architettura tecnica dell'anno successivo, dal 92, e il 92 è un anno importante. Perché? Alla sua prima opera, che qui vedete, Palazzo Maccaferri, in via indipendenza, che ha una facciata neorinascimentale, quindi l'architettura è ancora classica, il rinascimento è la storia che l'ha detta, però il rinnovamento del progetto è radicale. Come vedete già da questa immagine, i solai, le strutture, sfruttano quell'innovativo metodo di Ennebic, del quale chiede il giovane Muggia la licenza, che gli viene concessa per sei mesi, poi rinnovabile per altri tre mesi, e poi diventa una licenza sull'intero territorio nazionale italiano per applicare questo metodo al cantiere. Il cantiere, come vedete, si rinnova completamente. Dentro, diciamo, il Palazzo Maccaferri c'era un teatro, un caffè, un ristorante, Leiden, per chi ricorda queste cose. E in questa facoltà, ad assistere questi giovani che l'hanno costruita, c'era un altro artefice fondamentale, bisogna ricordare, che è Silvio Canevazzi, che è autore di due testi fondamentali con l'inizio del secolo scorso, 1901-1904. Il primo si chiama Sidero Cemento, e il secondo Ferro Cemento, per dimostrare l'irruzione di un nuovo metodo, diciamo, europeo di avanguardia nella organizzazione di un cantiere edile. Muggia sarà direttore della scuola di ingegneria dal 23 al 35 per 12 anni, fino alla sua collocazione in pensione. E quest'uomo ha realizzato opere per tutta Italia, le officine di Galileo di Firenze, sia quella in ferro che la parte in cemento, sono sue. Il cementificio Marchino, che voi vedete arrivando a Firenze dall'autostrada, quella grande struttura del cemento armato, è sua. Il dinamificio Nobel, in una zona, diciamo, nascosta, ovviamente, in un'anza del fiume Arno, alla Strassigna, ora è in un bosco, è ancora rimasto, è suo. Quindi è un uomo che all'insegnamento alternava la professione. Professione che noi troviamo molto attiva in questo progetto, che vedete ancora risponde molto a parametri, diciamo, accademici, insomma, quindi classicisti, che è il progetto della nuova facoltà di ingegneria. Ecco, l'imprinting di questo nuovo il progetto di ingegneria è chimica, se voi andate a leggere, dove c'è quella in alto, vedete quella struttura che sembra una chiesa a tre lavati, è la biblioteca. L'importanza della biblioteca, quindi giustamente segnalata dall'iniziativa che al 19 farà anche piacere a me andare a inaugurare, perché conferma la vocazione alla conoscenza della storia, dell'architettura nei monumenti. Ecco, che cosa interessava a Muggia? E quindi anche a Michelucci, che poi si trova a recepire questa specie di credo fondamentale. 1892 è l'anno del suo primo scritto di esordio di Muggia, che si chiama La costruzione architettonica, le costruzioni architettoniche e la loro ornamentazione in rapporto con la natura dei materiali. Quindi, come vedete, il problema qual è? È ingegneria e architettura, è saldarli insieme la costruzione, il cantiere, il rinnovo del cantiere, l'avanzamento del cantiere giorno per giorno, come dirà Michelucci, e la sua ornamentazione, quindi il difficile equilibrio tra scienza e naturalmente architettura storicista, perché qui siamo in periodo di storicismo e il rapporto con la natura dei materiali. Sono i materiali, l'anima dei materiali, che sono sentiti come vivo. E in questo suo primo contributo storico, Muggia cita l'illustre professor Boito. Quindi, perché cita Boito? Perché cita il filone storicista della docenza degli studi dei politecnici di ingegneria in tutta Italia. E quindi Boito aveva scritto un libro, l'architettura del Medioevo in Italia, nel 1980, e Muggia sosteneva con lui la doppia polarità, che dobbiamo tenere insieme come equilibrio dialettico fra natura dei materiali da una parte e sviluppo storico. La storia non si ferma, la storia continua, quindi il nostro sviluppo è storico fin da ora. Ecco, fra organismo statico, e l'organismo è fatto, questa è una parola che poi riprenderà Michelucci, di organi portati e di organi portanti, e simbolismo estetico. Simbolismo estetico, la facoltà dell'architettura, diciamo, l'accademia poi anche, che questi due bracci di uno stesso corpo devono comunicare continuamente e devono sapere toccare, diciamo, il progetto e provocarne un esito innovativo. Quindi, l'attenzione, non è eclettismo questo, anzi, Michelucci dirà, l'eclettismo è una fortuna, perché ci mette in condizione di dialogare con qualunque epoca. Nessuna è esclusa. Noi dobbiamo portare il nostro interesse all'interno di tante culture diverse, insomma, mai come oggi, di ogni tempo e di ogni luogo, in rapporto con le condizioni di vita civile, politica, religiosa di quel momento storico. Questo non è Michelucci, ma è Muggia, per esempio. La storia è un serbatoio fondamentale per la conoscenza, ad esempio, della anatomia della fabbrica. Guardare dentro il visibile e l'invisibile, la struttura, l'ossatura, quello che c'è dietro. È l'equazione già scoperta di là del Nuovo Mondo, da Sullivan, per esempio, forma e verità. Forma e verità dove la verità costruttiva è la prima bellezza. Quindi non è una bellezza aggiunta, una bellezza di gusto o di moda, ma è il risultato dell'espressività della materia e della natura che si plasma, come che l'artifice plasma. La pietra rappresenti la pietra, il ferro il ferro, il legno il legno e così via. E il mattone non rappresenti la pietra e ciò sia apparente, cioè si appaia, si veda e farà bella da solo la costruzione. Perché tutto ciò che adempie una funzione, che ha una forma razionale, ha una bellezza intrinseca che non dipende dalla forma artistica. Non è Michelucci. Questo è il 1892, Michelucci aveva un anno, era appena nato ed è Attilio Muggia. E come capite il grano di questa semina è già nel solco e lo vedremo con la nuova architettura. E nelle lezioni di architettura tecnica, che farà più avanti e codificherà nel 1923-1924, sulle composizioni e tipologia, ci sarà un lungo paragrafo di Muggia sullo stile, in cui, attenzione, condanna quello nuovo della secessione di Wagner, di Ulbricht, diciamo austriaca, c'è un odio e tamo, un odio e amore, e quindi dice che questa architettura è un'architettura esotica, irrazionale e stucchevole. E come contro, diciamo, controbilanciamento a questo sfogo del Liberty, della Wagner School, che in quel momento, diciamo, vedeva, nasce tanti fiori, insomma, tanto floreale in città, città le Corbusier. Muggia scopre le Corbusier del Verso de la Città de Tour, che è del 1924, e dirà che per formare uno stile occorre prendere per guida le norme della logica, la ragione. Quindi, fondamentale del progetto è la scelta di forme, sempre lui che parla, di forme appropriate all'oggetto materiale, alla sua natura da costruire. Sia esso, macchina, utensile, nave, aereo, deve trarre la sua forma, dalla sua funzione, dalla sua destinazione, dai suoi materiali impiegati. Quindi, vedete l'elogio della macchina, aereo, piroscafo, automobile, che il Corbusier fa in Verso de la Città de Tour, e dice, occhi che non vedono, l'Accademia non vede queste, queste sono, è il linguaggio dei materiali mobili del futuro che ci sta arrivando.